Radio Radicale, siamo con Osvaldo Napoli di Coraggio Italia per parlare con lui delle trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica. Questa mattina noi abbiamo ritrovato anche qui, nel giorno in cui tutti stanno brancolando nel buio, una voglia di rivolgersi a Mattarella per chiedergli come estrema razio di restare ancora un po'. Allora sappiamo che non c'è nessun obbligo, volevo sapere se questo è il frutto un po' dell'incapacità dei partiti di riuscire a parlarsi bene, perché mi sembra che siamo in un vicolo cieco dopo che Berlusconi si è ritirato. Guardi, io credo che invece da quest'oggi ci sia qualche un'area nuova. Il fatto stesso è che i partiti da questa mattina incominciano a confrontarsi trovandosi anche partiti di aree diverse, quindi di estra, di sinistra, di centro, se esiste ancora con destra, centro e sinistra, quindi un fatto estremamente positivo. Quindi io vedo che con oggi è l'inizio di una vera trattativa per riuscire a portare a casa il risultato in maniera unitaria o più unitaria possibile. Quindi ci sono certamente delle difficoltà. Io direi però per quanto mi riguarda, ecco da lato personale, io non sono il verbo, io vedo ad oggi certamente il presidente Mattarella, vedo il presidente Draghi e vedo Casini. I tre nomi, secondo me, da uno di questi tre nomi dovrebbe uscire il prossimo. Ecco, non c'è la variante femminile nella Catellati? Ma io personalmente non vedo che ci possa essere una variante in questo momento, non in questione femminile, cioè per una situazione politica estremamente, come dire, delicata ed importante. Aggiungo anche un'altra cosa. Noi parliamo solo del presidente della Repubblica e ci dimentichiamo che deve essere almeno contestuale col presidente del Consiglio. Non ci può essere un presidente della Repubblica tecnico e un presidente del Consiglio altrettanto tecnico, perché se no la politica sarebbe commissariata e sarebbe umiliata. Quindi è necessario che le due cose viaggino nello stesso accordo che le forze politiche dovranno avere. Il governo che decide sul virus e il governo che decide sul piano nazionale di rilancio, ci sono 50 progetti fermi, e il governo che decide sull'energia e il governo che decide su tutti i problemi sociali. Quindi credo che la cosa debba essere concomitante. Ed io credo che alla fine, ripeto, l'inizio di oggi sia estremamente positivo. Allora, se dovesse essere Draghi, però c'è da immaginare che la trattativa sarà più lunga di una settimana, perché questo comporterebbe anche la scelta di un nuovo presidente del Consiglio. E per fare un accordo del genere non è che ci si mette cinque minuti. Quindi, considerando l'abitudine dei partiti politici di nascondere la polvere sotto il tappeto, pensa che alla fine si tornerà a Mattarella? Beh, io ripeto, non so, Mattarella sicuramente dovesse, dovessero i partiti politici, andargli a chiedere di rimanere, deve esserci almeno tutta la maggioranza di oggi che glielo va a chiedere, eccetto la Meloni, che è sempre stata l'opposizione. E che vuole andare al voto? E che vuole andare al voto? Beh, lì sarebbe un altro discorso, a mio giudizio il centrodestra, come centrodestra di prima non esiste più, da quando Berlusconi si è ritirato, ma sarebbe già un discorso molto più lungo. Io credo che tutta la maggioranza di oggi dovrebbe andare a chiedere a Mattarella di rimanere. Poi bisogna vedere se Mattarella è d'accordo o meno. Però, ripeto, secondo me non è soltanto Mattarella, ma sono altri due nomi che sono estremamente importanti, anche di peso politico. Senta, vuole dire qualcosa sui candidati che sono stati mandati in prima linea all'assalto del Quirinale, che insomma sono destinati al sacrificio come la Belloni e Riccardi? Beh, guardi, al di là, se sono mandati allo sbaraglio, io non credo che siano mandati allo sbaraglio, nel senso che tutte e due sono dei personaggi che, nell'ambito delle istituzioni, sono due personaggi di peso che hanno dimostrato rispetto nei confronti del Paese, nei confronti delle proprie mansioni, sia come Ministro, sia come Segretario Generale della Farnesina e oggi nel nuovo ruolo della Belloni. Quindi io credo che prima di mandare il massacro, dico massacro fra virgolette, perché un termine mi sembra un po' troppo duro, bisogna fare molta attenzione, perché sono due che devono avere il massimo del rispetto di chi, ripeto, ha rappresentato le istituzioni in maniera corretta. Poi non credo che siano loro determinanti a occupare dei posti di governo oggi, dei posti di governo ai massimi livelli. Poi uno può anche fare il Ministro, dico per dire, in un nuovo governo, ma non a livello di Presidenza. Vorrei dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle. Allora Conte ha detto se ci sarà un nuovo governo faremo la votazione online. Allora, cosa vogliono quelli del Movimento 5 Stelle, che probabilmente non voteranno Draghi per ovvi motivi? Mi scusi. Salute. Grazie, mi perdoni. Ascolto, io non entro in casa degli altri. La mia esperienza politica mi porta a che mai bisogna entrare in casa degli altri. Certamente, per quanto io sono a conoscenza e per quanto io possa leggere su tutti i giornali e così via, è naturale che in casa dei 5 Stelle ci siano delle grosse problematiche, eventualmente di divisioni, su quella che potrà essere il prossimo futuro Presidente della Repubblica. Però credo che alla fine anche i 5 Stelle riusciranno a fare sintesi, perché se non fanno sintesi vuol dire che, ma questa è un'analisi, ripeto, senza entrare in casa degli altri, vuol dire che il 5 Stelle ha perso del tutto quella caratteristica che oggi è diminuita molto, ma che c'è ancora in parte, ma ha perso quella caratteristica di stimolo con il quale era nata. Vuol dire che se c'è questa spaccatura, vuol dire che è veramente una discesa estremamente, è un pendio veramente forte. Se le chiedessero di andare in missione a Palermo a chiedere a Mattarella di restare, ci andrebbe? Nella maniera più salute, è un uomo che ha dimostrato in questi sette anni la capacità moderata, equilibrata, conoscendo le problematiche, avendo quindi un confronto con tutte le istituzioni a 360 gradi. Anche il, mi permetto, io ho fatto sindaco tanti anni, il successo anche personale che ha in mezzo alla gente, direi che non avrei nessun problema di andare a chiedere, di più di andarli a chiedere di rimanere al Quirinale, perché è un personaggio che non potrà essere dimenticato, ecco, per quello che ha, come ha svolto il suo settennato. Grazie come sempre, Svaldo Napoli di Coraggio Italia. Grazie a tutti.